buongiorno compagni di via questo è il quarto video del laboratorio umano del purna yoga e continuerò a parlarvi della vita di satprem che attraverso soprattutto il suo epistolario far nascere dio e anche il libro intervista l'uomo dopo l'uomo ci fornisce delle delle considerazioni importantissime per poter riflettere sul significato della vita sulla anche serietà del nostro aderire un percorso spirituale l'abbiamo lasciato nella guiana e lo ritroviamo in in brasile e comincio subito con leggervi una lettera a bernard onzie del 1952 gennaio 4 gennaio non so se continuerò a camminare ancora per molto nell'avventura non ci credo più la mia unica avventura era quella interiore ho l'impressione di una devastazione totale non me ne restano tante di vie d'uscita siamo veramente in un momento in cui satprem tocca il fondo lo toccherà tante altre volte volte ma ricordiamoci che toccare il fondo nella via spirituale è toccare la notte dell'anima e bruciarsi tutto dentro e alle spalle per poter consentire alla luce di rinascere o di nascere per la prima volta ancora in una lettera a clarì siamo nel febbraio del 52 scrive della sua angoscia e dice non è un'angoscia metafisica ma l'evidenza dolorosa di un altro piano di coscienza di un'altra coscienza più vasta che però resta sigillata in fondo a me questa frase mi risuona tantissimo perché nel mio piccolo anch'io vivo tutto questo quando si ha uno sprazzo di meraviglia uno spazio di luce che emerge quando quando si respira per la prima volta il contatto con l'anima beh a quel punto niente è più meraviglioso niente più desiderabile e quando questo contatto si perde pur sapendo che c'è quella coscienza in fondo a noi nasce una grande malinconia e una nostalgia la chiamo la nostalgia dell'anima perché a questo punto vorremmo che nella nostra vita questo contatto diventasse continuo presente che fosse il nostro vero essere camminando per il mondo questo è ciò che satprem in questa frase descrive e continua tutto nasce e muore ad ogni istante ed è la consapevolezza di questa nullità del fragile acme in cui uno muore nasce è questa consapevolezza la porta stretta che si apre sulla vera coscienza di sé è là che bisogna andare ma le strade per andarci sono ignote e io vedo tutte le mie cosiddette esperienze come giochi che mi distraggono dal lavoro essenziale eppure c'è qualcos'altro da conquistare su noi stessi quella supercoscienza che a sprazzi talvolta c'è dato di intuire amica l'avventura del mondo non ha più senso è l'avventura interiore il senso della nostra epoca mi sembra che volere o pretendere di agire prima di aver acquisito quell'altra abissale coscienza sia mettere il carro davanti ai buoi io credo che per accedere a quel diverso livello di noi occorra in un primo tempo mettersi sulla strada della contemplazione fare cioè un gran ripulisti dei nostri automatismi mentali perdere l'abitudine a un io che funziona unicamente attraverso associazioni di pensieri di parole di ricordi occorre accedere attraverso una disciplina del corpo e del pensiero ad un nuovo ritmo capisci non si tratta di conquistarsi meriti per un mitico al di là ma di far liberare una nuova forza dell'essere ic et nunc qui ed ora sta a noi farlo nascere questo nuovo essere e appunto la divinità interiore una nuova padronanza dell'essere che c'è da trovare se l'evoluzione ha un senso deve essere tanto in senso spirituale che è in senso fisico cioè dall'incoscienza verso l'umanità sovracosciente di domani è detto tutto in queste frasi ma la cosa che più mi colpisce è questa nel in cui ribadisce che volere o pretendere di agire prima di aver acquisito quell'altra abissale coscienza sia mettere il caro davanti ai buoi tutto quello a cui stiamo osservando la caduta abissale del nostro sistema sociale politico economico morale l'involuzione che l'umanità sta subendo in questo periodo di perdita totale di libertà e di perdita totale del sacro in ogni sua forma perché anche il sacro è stato sverginato brutalmente in questo periodo realmente per quanti sforzi si possono fare per compiere un'azione per trasformare le cose sono destinate al fallimento se non c'è una trasformazione interiore perché ripeteremo gli stessi schemi rientreremo nelle stesse logiche continueremo una trasformazione attraverso i suggerimenti dell'ego che continuano a funzionare secondo i principi del possesso della divisione e del narcisismo e del potere a tutti i livelli e anche in questa frase non si tratta di conquistarsi meriti per un mirtico al di là ma di far liberare una nuova forza qui e adesso la critica a tutte quelle forme bigotte di religiosità in cui effettivamente ci si perde illudendosi di seguire una strada spirituale continua ripetendo una cosa che dice sceria rubindo le limitazioni del corpo sono nient'altro che degli stampi occorre che anima e mente li riempiano li rompano e li allarghino di continuo finché si trovi un modo di accordo tra la loro finitezza e il loro proprio infinito quindi anche tutti i nostri aspetti umani possono concorrere a questa trasformazione ma devono essere messi sotto legita dell'anima e non di considerazioni intellettuali e l'infinito dentro di noi che può trasformare questo finito e quindi creare una connessione tra materia e spirito che in fondo altro non sono che due aspetti del divino tutte le mie partenze dimissioni e dismissioni sono diventate un fine a se stesso che oscura tutto il resto mi pare di aver imbalsamato la mia verità interiore sotto la maschera delle partenze e delle dimissioni in una perpetua tensione itinerante certo sono diventato un uomo libero ho diritto al titolo ma dovrei sapere libero per che cosa e qui sapremo entra in crisi anche con il suo viaggiare con il suo abbandonare tutte le esperienze dopo averle in qualche modo assimilate si rende conto che pure questo può diventare uno stereotipo che pure questa può diventare una trappola almeno che questo vagare e questa libertà che cerca di conquistarsi non sia una libertà indirizzata realmente all'emergere della luce interiore e così andiamo ancora a scoprire le meraviglie di questo libro riporta in una lettera del 26 marzo a bernard al suo amico bernard che si chiama come lui che tra l'altro una frase dice che avvenga una completa trasformazione della natura non è una speranza ma una certezza e e ancora dice che sta ancora cercando quella luce del cuore che ha trovato in guiana e che ha trovato lungo le strade del Brasile sul mare della Bretagna e con Sri Aurobindo quindi ha avuto il sapore di questa luce ed è questo che lo tormenta ancora di più perché a quel punto vorrebbe che questa luce diventasse il centro della sua esistenza come lo vorremmo tutti noi che con sincerità e umiltà cerchiamo di percorrere questa via vi leggo adesso una parte della lettera del 6 luglio 1952 in cui lui ribadisce un qualcosa che è molto importante anche se non aderiva alle cose che faceva nel senso che i lavori che lui riusciva a trovare erano una possibilità per sopravvivere per mantenersi nei luoghi in cui cercava se stesso però non veniva meno la sua serietà cioè comunque tutte queste attività lui le faceva nello spirito adesso lo potremmo dire del karma yoga con tutto se stesso e lo ribadisce non sono abituato a fare le cose a metà né a sfruttare le persone le cose le faccio come si deve e quel che sin qui ho combinato si è sempre concluso onorevolmente per me perché nella guiana a un certo punto il suo lavoro era stato considerato di pregio quindi gli avevano proposto un grado superiore la direzione addirittura dell'ufficio delle prospezioni e continua non ho l'abitudine di prendere in giro la gente fosse pure nel mio interesse e quindi anche quando watson che appunto è un funzionario di questo ufficio gli dice di continuare questo lavoro di restare di e quindi di salire di grado di avere una maggiore responsabilità lui lo ringrazia ma gli spiega onestamente perché non poteva e dice essere stato franco nei confronti di watson mi ha lasciato libertà d'azione e mi ha confermato la loro simpatia ecco quindi anche se sto facendo un lavoro che non corrisponde effettivamente a un mio ideale lo compio con tutto me stesso nello spirito del karma yoga lo offro questo è importantissimo anche per chi è in crisi con il proprio lavoro e contrario il mio carattere sfruttare chi che sia così come contrario il mio carattere coltivare amicizie interessate andiamo ad una lettera del 1952 e siamo a rio questa volta e dice quando sono venuto fuori dai lager era tutta una devastazione capisci nascevo a vent'anni in un mondo vuoto in quello sfacelo restava solo il ricordo di una gioia straordinaria che avevo provato un giorno che mi sono trovato privo di tutto lì lì per crepare che dirti di una gioia simile era come se fosse nato un altro mondo dal nulla in cui mi trovavo di colpo quell'incomprensibile gioia come se fossi piombato al centro delle cose nel loro cuore e lì c'era un saldo dominio di tutto una chiarezza infinita una forza prorompente mi sembrava di avere scoperto il cuore vivo e radiante dell'esistenza attraverso tutte le sue crudeltà dopo il lager non ho mai smesso di cercare le condizioni per ritrovare la fonte di vita che mi si era spalancata dentro che avevo sentita in me mi sembra di dover lasciare tutto per ritrovarla di doverle sacrificare tutto e qui ulteriormente comprendiamo ancora una volta il perché di questo insaziabile viaggio di Satprema alla ricerca di questa gioia per ritrovare questa gioia che scopre proprio quando aveva perso tutto e questa è una grande indicazione anche nella mistica cristiana appunto come dice anche San Giovanni della Croce la lunga notte dell'anima e la condizio sine qua non per poter poi approdare a questa gioia bisogna perdere tutto ma soprattutto perdere tutta l'illusione di noi stessi l'illusione del nostro ego della nostra finta personalità e ancora vado viaggiando in questo libro una lettera a Clarie in cui dice adesso so che c'è un solo maestro il maestro interiore al quale bisogna dire sì e ancora sì malgrado e contro tutto nella buona e nella cattiva sorte a volte dispero di essere altro che una sorta di domanda assoluta senza risposta una fiamma assurda che si consuma da sé qui parla del maestro interiore ma ovviamente sapeva di che stava parlando proprio perché il contatto con la sua anima era frutto di una reale scarnificazione di un reale annullamento di sé di un processo di nigredo nel vero senso della parola di discesa nell'ombra non il maestro interiore a cui molti diciamo ricercatori new age si appellano e che altro non è che una voce più raffinata del ego narcisista dobbiamo stare molto attenti questo lo poteva fare una persona come Satprem ma noi restiamo molto vigili quando parliamo di maestro interiore cerchiamo di imparare a discernere discriminare la voce dell'anima dalla voce dell'ego che si spaccia per la voce dell'anima o altre voci che vengono da altri piani e si spacciano per piani luminosi scrive il 31 agosto sempre in una lettera a Clarie non si tratta di arrivare a un soffitto ma semmai di sfondare i nostri soffitti tutte quelle norme nelle quali si pretende di ingambiare lo sviluppo umano come nel corso delle ere dalla materia è emersa la vita e a partire dalla vita la coscienza è emersa dall'incoscienza così a me sembra che noi dobbiamo cercare di far emergere dalla nostra imperfetta coscienza una supercoscienza come scriveva credo Cocteau la nostra civiltà superintelligente anzi superintellettuale dice ci riduce a stilografiche pensanti e quante stilografiche pensanti oggigiorno ci sono quanti scritti contorti intellettualoidi che poi in realtà non esprimono se non il vuoto totale sì dobbiamo essere insubordinati come mi scriveva Gide dobbiamo disobbedire innanzitutto all'ordine sociale o familiare ma l'ultima e la più alta delle nostre disobbedienze sta nel disobbedire a noi stessi